Buongiorno a tutti, questo video è solo per avvisarvi che la saga di Dungeon Keeper è al momento interrotta, ho pubblicato il primo episodio giusto per vedere come funzionava, se potevo registrare questo gioco che gira sotto DOSBOX. Qualcuno ha anche cliccato mi piace, lo ringrazio, solo che ho deciso di riprenderla da capo perché ho trovato su un sito, un gruppo di volenterosi che si sono preoccupati di tradurre la versione che ho acquistato su GOG.com in italiano e assolutamente non voglio perdermi quelle fantastiche introduzioni che ci sono in questo gioco, dove una voce maligna spiega il mondo che andremo a conquistare, cosa del tipo dolce sorriso, questa è la terra dove tutti sorridono, no queste cose non me le voglio perdere penso che sia bello anche realizzarci un video sopra, devo ricominciare, devo riprepararla, abbiate un po' di pazienza, ciao! Tutti link come ad esempio dove acquistare la versione di Dungeon Keeper Gold su GOG.com e dove scaricare la traduzione in italiano lo trovate sotto questo video, grazie!